allora altra tappina proprietà privata si non è proprio in effetti il posto ideale dove passare facciamo il giro qui là è molto casa delle streghe c'è anche l'albero grande smonso non c'è l'albero non c'è l'albero mi sono spaventata perché? anche i piccioni non c'è l'albero non c'è l'albero questa è la casa dei piccioni ormai toccato cacchia di piccioni dappertutto era una bella cadetta non c'è l'albero l'albero si si ma c'è il barbone tra l'altro è vero, guarda che cielo da scia chimica ma cazzo, pazzesco, si sono nelle foto americane mi hanno fatto gli occhi mi hanno fatto il posto del corte mi hanno fatto il posto del corte mi hanno fatto gli occhi mi hanno fatto che prendi quella ok, stacco, speriamo che posso salvare mi hanno fatto il posto del corte mi hanno fatto il posto del corte